È un grande lavoro perché poi dobbiamo lasciare tutto in ordine, tutto perfetto. Sicuramente c'è grande fermento, grandi soddisfazioni e ci mettiamo sempre tanto amore e cerchiamo di trasferirlo, questo concetto, anche oltreoceano. Dobbiamo preparare tutti gli scatoloni enormi che devono essere belli situlati e contenere i nostri abiti preziosi. Amano molto la sartorialità, il fatto che possano parlare direttamente con noi e quindi avere una soluzione a qualche problematica per quanto riguarda la vestibilità. Può arrivare la ragazza con gusti estremamente raffinati, quindi approccia un prodotto stile Victoria F, quindi una collezione molto delicata, raffinata. O ti può arrivare la ragazza che magari vuole mostrarsi, una ragazza che vuole essere diva, la nostra forza è proprio quello di avere la possibilità di realizzare un prodotto artigianale, quindi fatti veramente su misura. Quindi ci adattiamo noi a quelle che possono essere le esigenze delle ragazze, delle spose. Personalizzare una scollatura, un ricamo, un disegno, per loro è proprio un qualche cosa di unico. Era un obiettivo che avevo in mente già da molti anni e quando siamo arrivati, siamo approdati a New York, abbiamo visto che le spose oltreoceano apprezzassero in modo così importante il nostro prodotto. È stata una soddisfazione immensa. Sì, è pieno, pienissimo, quindi anche noi non vediamo l'ora di conoscerle e di andare lì. Ciao!